L'orchestra dei pomeriggi musicali di Milano e il coro da camera ebel diretti dal maestro Alessandro Cadario, il clima natalizio, la maestosità del Duomo. Gli ingredienti ci sono tutti per una serata di musica di livello in Riva Allario. Nel ricco calendario della città dei Balocchi si inserisce il concerto di Natale in cattedrale il prossimo 14 dicembre alle 21. A dirigere l'orchestra il giovane ma già molto affermato maestro Cadario, che ha studiato al Conservatorio di Como e che per l'occasione ha deciso, dopo un sopralluogo accurato, di porre l'orchestra quasi al centro del Duomo per migliorare l'ascolto da parte del pubblico. Partiamo da Beethoven e da Schubert con la sua quinta sinfonia che scrisse a 19 anni per poi proseguire con musica più vicina ai nostri giorni, l'adagio di Samuel Barber per orchestra e una chicca per il centenario di Britain, ovvero una versione orchestrale che verrà appunto presentata in prima assoluta in questo concerto di alcuni brani tratti dalla composizione di Britain, A Ceremony of Carols. Protagonista è il coro Ebel, composto da giovani studentesse liceali che saranno accompagnate dall'orchestra dei pomeriggi musicali di Milano, la più antica di regione Lombardia. È stata quindi un'occasione che abbiamo colto, che ho colto personalmente al volo nel momento in cui sono venuta a conoscenza della realtà dell'Associazione degli Amici di Como che tramite appunto la città dei Balocchi valorizzano in modo così intenso il nostro periodo di Natale. Un evento che vuole essere un'occasione in più per avvicinare i cittadini al loro Duomo. Il Duomo è nato dalla città ed è per la città ed è comunque un punto di riferimento oltre che religioso, culturale, umano, sociale, quindi è naturale e noi vogliamo rispettare questa identità che il Duomo ha nella sua storia. Sabato 19 dicembre, nuovo appuntamento musicale, questa volta al Collegio Gallio alle 17 con l'orchestra dei piccoli pomeriggi musicali che si esibirà nel concerto Il Soldatino di Piombo.